e ciao grandissimi eccoci qua per un nuovo fantastico video oggi parliamo di pellicolare gli orologi ma prima di procedere col video vi ricordo di iscrivervi al canale di seguirmi sulla pagina instagram lo zio poli e di entrare nel mio gruppo telegram vi lascio l'invito in descrizione che più siamo più ci divertiamo e a tal proposito visto che iniziamo a essere in tanti vi dico mille grazie ragazzi per l'affetto per la stima veramente grazie detto questo come potete notare al mio polso ho il mio fantastico seico astrolabio che abbiamo visto domenica non ho parlato del movimento che l'otto l35 perché sto aspettando un altro seico sla che incarna lo stesso movimento e con quello siamo ben a 5 orologi con lo stesso movimento in mio possesso farò un breve rodaggio anche nel modello nuovo con questo ormai ultimato perché voglio portarvi dei dati significativi e reali quindi per quella che la mia reale esperienza avendone 5 su quella che è la precisione di marcia di questo calibro come viaggia e se su 5 modelli si ha più o meno una certa omogeneità o se ce n'è qualche d'uno che corre più di un altro o rallenta preferisco fare le cose fatte bene quindi abbiate pazienza parleremo in modo approfondito di questo calibro e di come si comporta detto questo passiamo all'argomento del giorno ovviamente parliamo di pellicole io sono solito mettere pellicole sui miei orologi in quella che è la parte del fondello in quella che è la clasp nel caso gli orologi abbiano il bracciale detto questo sentitevi liberi di fare ovviamente qualsiasi cosa voi desideriate nel senso ogni orologio è ripristinabile da un bravo laboratorio e quindi anche i temuti graffi insomma sono sempre ripristinabili non si può quasi mai fare nulla di irreparabile visto comunque anche le moderne tecniche di microsaldatura insomma si può ripristinare praticamente la qualunque ovviamente se lo buttate sotto un caterpillar in un cantiere non credo si possa fare ma diversamente c'è modo detto questo io come vi ho già detto sono solito mettere le pellicole sulla clasp perché appunto si appoggia sul tavolo si può rigare in quello che il fondello dell'orologio dopo tanti anni di ricerca sono arrivato alla conclusione che le pellicole migliori da utilizzare non sono tanto quelle già pre ritagliate che costano una fortuna piuttosto che strane cose alchimie lo scotch no è semplicemente ne abbiamo qui un esempio pellicola da bicicletta dello spessore di 0 3 mm circa quindi di 3 decimi di millimetro io trovo che sia lo spessore ideale che sia resistente il giusto che sia applicabile in modo abbastanza agevole e oltretutto avendo uno spessore di molto superiore a quello dello scotch si riesce a fare anche un posizionamento un po' più preciso ma adesso vi faccio vedere nel dettaglio quello che serve quindi guardiamo un po' cosa ho sul tavolo ed eccoci qua carissimi vi faccio vedere brevemente quello che è la pellicola come vedete è una pellicola da bicicletta con uno strato abbastanza gommato quindi risulta molto facile da applicare io qui ho già ritagliato dei pezzetti rettangolari che utilizzo sulle clasp ovunque ci sia necessità vi sconsiglio assolutamente di utilizzare uno scotch normale a parte perché lascia residui di colla e poi perché insomma è difficile da applicare essendo così sottile oltretutto spesso opaco c'è anche la versione lucida ma è abbastanza difficile mi raccomando non fate come me quindi utilizzate forbici dalla punta arrotondata ora vorrei cercare di farvi capire come vedete ha una certa flessibilità sono abbastanza gommato oltretutto essendo fatte per essere applicate spesso su telai in carbonio non rilasciano colla non sono assolutamente invasive non vanno a rovinare in alcun modo quello che è il vostro orologio quindi le ritagliate di questa forma ovviamente io solitamente appoggio la pellicola su quella che è la clasp e inizio pian piano a togliere a limare dove serve poi potete ovviamente anche arrotondare gli spigoli il tirannosauro mi dà allegria oltretutto dà la pellicola la sua vicinanza almeno 7 cavalli bancati quindi vi consiglio sempre di averlo anche voi che credetemi aiuta molto detto questo guardate sono flessibili sono morbide sono assolutamente trasparenti vi faccio vedere notate anche avendole in mano ora questa qui la tolgo vedete hanno struttura quindi è abbastanza facile applicarle se volete aiutarvi anche con pinzette e quant'altro oltretutto si attaccano e si staccano quindi se la mettete male siccome appunto ha un po' di spessore che potete notare qui e un po' di struttura fate sempre in tempo a togliere e riapplicare in un secondo momento ne ho fatte un pochino di tutte le forme ne abbiamo sottili ne abbiamo un po' più larghi insomma c'è tutto quello che desiderate il nastro solitamente è abbastanza largo quindi in questo caso si parla di circa 4 centimetri e mezzo 5 quindi ci stanno comodamente anche tutti i fondelli in quel caso lì andrete a fare una forma tonda logicamente da applicare sul fondello che potete comunque correggere man mano perché una volta che voi avete ritagliato appunto la sagoma l'andate ad appoggiare e tutto quello che in più o che non vi garba lo andate a sua volta a ritagliare con le forbici mi raccomando sempre con la punta arrotondata quindi è un'operazione semplicissima è un'operazione divertente avete visto in tutti i miei video le pellicole io come le metto vi sconsiglio anche di usare il domopack perché comunque no non va bene non è una cosa assolutamente fattibile e adesso direi di tornare per quelle che sono le conclusioni sempre con la supervisione del tirannosauro ed eccoci tornati qua cari amici come vedete sono tutte cose molto molto semplici poi ognuno fa quello che desidera si acquisisce appena un po' di manualità ma anche se comunque sbagliate non succede niente perché la pellicola la togliete e non fate alcun tipo di danno vero pedro pedro come parlo di pellicole è già arrivato ovviamente qui perché anche lui è un grandissimo fan delle pellicole non morsicare tirannosauro detto questo ragazzi io ve la consiglio sempre sulla clasp perché anche se esteticamente non è il massimo della vita comunque mi salva da spiacevoli airlines i vostri orologi io personalmente ci tengo molto ai miei segni a tempo quindi non mi piace graffiali non mi piace rigare oltretutto come avete notato credo da un po di video io l'orologio lo indosso a destra e quindi capite che per me è molto più facile andare a urtare andare impattare contro delle cose io mi limito come vi ho già detto in precedenza solo alla clasp e solo il fondello non mi avventuro nel metterle lateralmente o da altre parti dell'orologio perché sinceramente mi vanno un pochino a modificare quella che è l'estetica quindi mettendole solo sulla clasp e sul fondello quando voi capite andate a vedere l'orologio indossato al polso non le notate assolutamente vi fanno stare un po più tranquilli e la cosa non risulta invasiva dopo ripeto non le volete mettere fate quello che volete volete comprare quelle pre spaziate da applicare con le pinzettine gli applicatori fatelo io sinceramente le ho provate una volta non mi sono trovato bene oltretutto sono costosissime perché vi ricordo che tre o quattro metri di questa pellicola qui da telaio da bicicletta costa su amazon circa una ventina d'euro ora io non vi metto il link affiliato perché non metto link affiliati questa è una mia politica che vi prego di accettare però comunque voi scrivete pellicola da bicicletta guardate lo spessore mi raccomando ve lo ripeto di 0.3 mm che io trovo sia quello ideale e non vi potete sbagliare una vale più o meno l'altra e ne avete metri e metri quindi potete provare pellicolare spellicolare fare tutto quello che desiderate benissimo cari amici io vi ringrazio se il video vi è piaciuto mettete like ma adesso vi faccio salutare dal vero motivo per cui guardate i miei video è pedrone vieni qua bel volpone è sempre qui vicino a me allora da me e da pedro che è molto attratto anche lui dalle pellicole è un carissimo saluto ciao grandissimi